Musica Si preannuncia un'estate difficile sul piano dell'approvvigionamento idrico. Non era infatti mai successo che già nel mese di maggio arrivasse un'ordinanza di limitazione dell'uso di acqua potabile. Il provvedimento è stato firmato ieri dal sindaco tedesco, che ha preso spunto dall'allarme lanciato dal gestore del servizio idrico, che ha parlato di portate minime attese dalle fonti di approvvigionamento come conseguenza delle poche piogge registrate nei mesi scorsi. Se il buongiorno si vede dal mattino, ci attende un'estate all'insegna della grande sete. Non può essere commentata altrimenti l'ordinanza firmata dal sindaco tedesco che mira a contenere il consumo di acqua. Un provvedimento che prende spunto dal fatto che il gestore del servizio idrico ACEA-ATO2, sulla base delle analisi incrociate, ha comunicato di aver registrato anche per l'anno in corso una situazione di significativo deficit relativamente ai cumulati pluviometrici e conseguentemente delle relative portate minime attese dalle fonti di approvvigionamento gestite. Per questa ragione il primo cittadino ha firmato l'ordinanza che avrà effetto fino al 30 settembre che riguarda la limitazione dell'uso dell'acqua della rete di distribuzione idrica cittadina, che andrà usata unicamente per scopi potabili, per i normali usi domestici e sanitari, ovvero per tutte le attività commerciali regolarmente autorizzate, che necessitino di acqua potabile per il consumo umano e vi compresi i servizi pubblici di igiene urbana. Il provvedimento vieta poi l'uso di acqua proveniente dalla rete idrica cittadina per il riempimento di piscine private e permetta ai fini del mantenimento e decoro del verde pubblico l'utilizzo della risorsa idrica per l'innaffiamento di aree di interesse pubblico. Nell'ordinanza si raccomanda poi di limitare al minimo necessario l'utilizzo dell'acqua potabile per l'irrigazione di orti e giardini, per scopi ludico-recreativi e sportivi, tra cui il riempimento di piscine private. Si invita infine la cittadinanza a ricorrere, ove possibile, a fonti alternative di approvvigionamento idrico e a forme di riutilizzo e riduzione dei consumi e di provvedere all'innaffiamento minimo nelle ore notturne. Per ora nessuna sanzione sembra essere prevista per i contravventori, ma c'è da attendersi che non mancheranno qualora la situazione non dovesse migliorare. Insomma, prepariamoci a fare la classica danza della pioggia. Stanotte intorno a 1.30 i vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via Lorenzo Betti per un incendio a bruciare. Era il locale spogliatoio del complesso sportivo palagrammatico. Arrivato sul posto, l'equipaggio della 17esima si è trovato davanti il locale avvolto dalle fiamme pieno di materiali di risulta. Immediatamente i pompieri hanno iniziato le operazioni di spegnimento con un rapido attacco offensivo dall'interno, mentre il resto della squadra ha applicato tecniche di ricerca di eventuali persone rimaste nella struttura. Sul posto anche la Polizia di Stato. Non si è registrato nessun ferito. I funzionari dell'ufficio delle Doganne hanno eseguito una complessa attività di verifica fiscale nei confronti di una società di Civitavecchia operante nel settore di vendita online di oggetti di elettronica. La società aveva acquistato i beni da altri paesi dell'Unione Europea senza applicazione dell'imposta, rivendendo tale merce all'interno del territorio nazionale, omettendo il versamento dell'IVA per oltre 2 milioni di euro. L'ufficio, che si è avvalso per la verifica del sistema elettronico comunitario di scambio di dati sull'IVA, ha applicato sanzioni per un importo complessivo di circa 2,8 milioni di euro. Si sono svolte senza particolari problemi le operazioni di sbarco dei 43 migranti che si trovavano a bordo della Geobarens, la nave di medici senza frontiere, battente bandiera norvegese, che lunedì scorso aveva effettuato un salvataggio nelle aree internazionali a largo della Libia e che ieri è sbarcata al porto di Civitavecchia. Sulla banchina era già predisposta una macchina di soccorsi e dell'accoglienza consolidata, considerato che quello di ieri è stato l'undicesimo sbarco di una nave di migranti nel porto locale e il quarto della Geobarens in particolare. Dopo un primo controllo di carattere medico, i 43 migranti provenienti dalla Siria, dall'Egitto e dal Bangladesh, tutti di sesso maschile che al momento del salvataggio si trovavano su un barchino di legno, sono stati trasferiti in centri di accoglienza. Arriva un nuovo servizio per le migliaia di turisti che quotidianamente transitano da largo della pace. Lunedì prossimo si svolgerà il sorteggio delle 12 postazioni già allestite e che fungeranno da box informazioni per tour operator, agenzie di viaggi e enti locali, i quali avranno modo di illustrare ai croceristi iniziative, itinerari e servizi che li attendono nel territorio di Civitavecchia. Un sorteggio per assegnare le posizioni all'interno dell'area di largo della pace. È quello in programma lunedì prossimo alle 10.30 a Molo Vespucci e riguarderà i 12 box che sono stati allestiti al fine di fornire attività di informazione, promozione e vendita di proposte turistiche e servizi alle migliaia di croceristi in transito ogni giorno. Le 12 postazioni della dimensione di poco più di 5 metri quadrati e situati in un'area di 20 metri quadrati ciascuna sono state già ripartite a diversi richiedenti interessati. Quattro sono andate a soggetti cosiddetti istituzionali, ovvero enti locali che vogliono fare promozione delle loro realtà e aziende di trasporto che quotidianamente sono al servizio dei croceristi, comprese quelle che gestiscono i bus scoperti che si vedono transitare in città da qualche anno a questa parte. Gli altri 8 invece sono stati assegnati ad agenzie di viaggio e tour operator che potranno formire informazione ai turisti e distribuire materiale promozionale riguardante pacchetti o altro. Una delle postazioni facente parte di un gruppo di due ma per le quali sono arrivate tre assegnazioni sarà cointestata tra due soggetti e anche in questo caso si andrà a un sorteggio. Gli assegnatari avranno poi 10 giorni di tempo per inviare la documentazione necessaria al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Lunedì prossimo si chiuderà quindi un ITER che si è rivelato più lungo del previsto, considerato che era iniziato a ottobre e termina a stagione delle crociere già iniziata. Comunque si tratta di un altro tassello in funzione dei servizi che Civitavecchia riesce a fornire ai tanti croceristi che sbarcano dalle navi ormeggiate in porto, anche se su questo specifico versante c'è sicuramente ancora molto da fare. Approvata in giunta comunale la delibera di adozione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche denominata PEBA, un elaborato importante che riguarda tutta la città compresi gli edifici pubblici e che dovrà proseguire il suo ITER legato alla fase di consultazione e recepimento di osservazioni, benché sia stato già illustrato ai rappresentanti del tavolo tecnico per la cultura dell'agibilità per poi essere definitivamente approvato dal Consiglio Comunale. Civitavecchia non poteva rimanere priva di questa importante pianificazione, dichiara il Vice Sindaco Manuel Magliani, che rappresenta un segno di civiltà che dovrà improntare tutte le opere che verranno realizzate, nonché progressivamente adeguare tutta la città in modo da garantire pari accessibilità a tutti. In occasione del 250esimo anniversario della Fondazione del Corpo, l'amministrazione comunale ha tributato la cittadinanza onoraria al locale gruppo della Guardia di Finanza. A testimonianza del profondo legame con le istituzioni e la comunità locale, alla cerimonia tenutasi presso l'Aula Consigliare Renato Pucci del Palazzo, in cui a sede il Comune hanno partecipato le massime autorità. Dopo la proiezione di un video realizzato per la ricorrenza dei 250 anni dalla Fondazione della Guardia di Finanza, è stata data lettura dell'atto deliberativo di conferimento. L'intervista. Comandante Stella, giornata speciale con la celebrazione ai Guardia di Finanza, 250 anni e soprattutto la cerimonia di cittadinanza onoraria da parte del Comune di Civile Vecchia. Assolutamente, è un gran bel riconoscimento, il sindaco lo aveva già annunciato in occasione del concerto tenuto dalla banda del Corpo al Terminal Crociere ed è un bel evento anche perché veramente, come ho avuto modo di dire, i ringraziamenti va a impattare su quello che è la dimensione sociale della Guardia di Finanza. Cioè la Guardia di Finanza che deve essere vicino al cittadino, che con tranquillità e fiducia si deve sempre rivolgere a noi per qualsiasi tipo di problematica. Ripeto, noi vengono persone a fare denunce, querele, esposte, a volte anche solo per un consiglio. Noi ci siamo e abbiamo, come ho detto, non sono mai parole al vento, diamo sempre una risposta a quello che il cittadino ci viene a dire. Quindi con fiducia, questo riconoscimento, la cittadinanza ci rende co-cittadini, quindi proprio ad evidenziare questo valore di vicinanza verso le persone. E come ho detto, il topic che GDF è hashtag noi con voi, che è un significato... Cittadini anche, se ne provo a Corso Centocelle. Anche fisicamente siamo collocati al centro, Palazzo Storico, Palazzo Bruzzese, bellissimo, nel salotto di Corso Centocelle, alle spalle il quartiere del Ghetto, altro quartiere storico, quindi anche fisicamente siamo a disposizione dei cittadini. Un aiuto per tutti gli alunni italiani che dovranno affrontare tra qualche settimana all'esame di Stato, ma anche un sussidio pratico e veloce per chi vuole sapere qualcosa in più o magari chiarire qualche dubbio che si porta dietro dai tempi della scuola. È l'idea che il professor Mario Camilletti ha realizzato con Ripassone It, una serie di mini-video che affrontano in appena 5 minuti tutti gli autori della letteratura italiana dell'Ottocento e Novecento, il classico programma che si porta all'esame. Pubblicato da Bertogni Editore Ripassone It, è del tutto gratuito e si avvale di slide e quadri esplicativi che rendono semplici e chiare tutte le informazioni necessarie a capire i nostri maggiori autori, da Leopardi a Calvino. La vera sfida per me è stata quella di riuscire a condensare in pochissimi minuti tutto quello che c'è da dire sulla poetica di autori di straordinaria levatura, ma a forza di un Ripassone ben fatto è proprio quella di essere sintetico e chiaro. Per vedere le puntate da Leopardi a Calvino basta digitare Ripassone It su Google o su altri motori di ricerca. Dopo uno dei capolavori di Edoardo, Napoli milionaria reduce da un grande successo, ecco su Gofinto, commedia agrodolce di Gianni Clementi tra comicità e riflessione. Questo è il nuovo appuntamento al Teatro Nuovo Sala Gasman in scena domani alle 21 e domenica alle 19. Su Gofinto è la storia di due sorelle Zitelle, Adolorata e Rosaria. Interpretate da Monica Lugini e Cristiana Stazzonelli, la regia è di David Marzullo che gestiscono una merceria al centro di Roma. Il loro è un rapporto complicato, fatto di continui battibecchi a causa delle visioni opposte della vita, ma a prevalere è sempre Rosaria, la più forte delle due, con Adolorata costretta a subire. Dopo una regular season di fuga, rallentamenti e colpi di reni finali, a tempo di play-off per la NCC Vita Vecchia che comincia la sua avventura nell'epilogo del campionato di Serie B. Domani alle 20.15 si gioca a gara 1 al Palagalli contro i Ranger Vicenza. Non proprio un avversario particolarmente conosciuto per la squadra di Aurelio Baffetti che giocherà questi play-off senza grossi fronzoli, con la voglia di divertirsi e l'ebbrezza di compattarsi con l'ambiente e con tutta la città. Al termine di due mesi passati praticamente ad aspettare e ad allenarsi, la Comal Civita Vecchia Volley Academy può fare sul serio per i play-off del campionato di Serie C. C'è un gironcino a tre da vincere per il gruppo di Alessio Pignatelli che inizierà a viaggiare sulla sua strada andando a giocare a Colleferro contro la Dea per l'incontro che prenderà il via domani alle ore 16. Adesso Pignatelli, Veronica Guidozzi arriva alla parte fondamentale di questo campionato dopo due mesi che praticamente gli aspettiamo, ci sono i play-off, si va a giocare a Colleferro contro la Dea. Come arrivate a questo incontro perché adesso vi giocate veramente tanto? Bene, siamo pronti, siamo arrivati in ottima forma grazie al nostro preparatore atletico Francesco Capparello. Le ragazze hanno lavorato tanto, si meritano di giocare e di sputare questi play-off. Poi il risultato farà parte di quello che sarà il campo, ce lo dirà il campo se siamo migliori di Dea Volley. Capitano, in questi giorni hai fatto anche una considerazione, hai detto che già un obiettivo l'ha raggiunto, quello di lavorare insieme, di andare avanti insieme e di fare in modo che questo gruppo possa arrivare ai risultati più importanti di questa stagione in questo modo. Siamo cresciute molto, l'abbiamo fatto insieme, un gruppo giovane comunque che chiaramente ha avuto bisogno di tempo per amalgamarci e credo che arriviamo a questo primo incontro importante nel migliore dei modi. Cosa ha fatto di questa squadra per poter giungere a questi livelli così fondamentali perché adesso praticamente ogni partita è dentro e fuori? Sicuramente abbiamo lavorato molto bene, a merito nostro, a merito del gruppo, a merito dell'allenatore, del preparatore atletico, abbiamo lavorato molto bene insieme quindi sicuramente questo ci porta ad essere pronte. Coach è quindi una partita fondamentale, su cosa lavorerete in partita in modo per poter sconfiggere la Dea Volley, che ultimamente ha visto qualche sconfitta, però comunque sia arriverà prontissimo a questi block. Loro hanno due riferimenti importanti, uno è l'opposto, uno è lo schiacciatore che gioca, che sono giocatrici di buon livello, sicuramente la C è per loro un campionato che è un po' stretto, cercheremo di arginare un po' loro due e poi cercheremo di fare la nostra partita in battute e ricezione che sono un po' secondo me l'acolo della bilancia. Ritorna a giocare in casa dopo due trasferte di fila la semarromata cestistica impegnata nella pool salvezza di Serie C domani alle 18 palla 2 al Palaricucci per la gara della seconda giornata di ritorno contro Basket Roma, che ha inflitto ai rossoneri una delle tre sconfitte in questa parte di stagione. Vincere è importante per avvicinare una salvezza che attende solo di essere ufficializzata e per farlo bisogna portare a casa il successo, che chiuderebbe qualsiasi discorso con quattro giornate di anticipo. Finisce senza grossi sorrisi il campionato di Serie C per l'Ipertecnica Centumcelle, che giocherà domani alle 14 a Silvi Marina in provincia di Teramo contro il fanalino di coda Rosetana. È già tutto deciso per il set di Roberto Barbaro, che ha ancora dentro la delusione per aver mancato la qualificazione ai play-off. Formazione quasi del tutto rivoluzionata e composta per larga parte da ragazzi del settore giovanile, con la società che si sta già muovendo per organizzare la prossima stagione. Iscriviti al canale Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti